Guardia Costiera, 10 arresti per associazione a delinquere finalizzata alla ricettazione. Sant'Arsenio Spedale, nasce Tavolo Tecnico Asl Comune. Montesano sulla Marcellana, l'amministrazione aderisce all'Obesity Day, consegnata merendina a chilometro zero. Sanza e Montecervati, itinerario turistico da inserire nella proposta del gruppo Expedia, giovedì 17 l'incontro. Salerno, soppressione treni Frecciarossa, la rabbia dei pendolari in una lettera. Buonasera e bentrovati al nostro appuntamento con il TG News. Questa mattina conferenza stampa presso la sede della Procura della Repubblica di Salerno per illustrare i risultati conseguiti a seguito di una complessa attività di polizia giudiziaria condotta dalla Guardia Costiera di Salerno. 10 arresti per associazione a delinquere finalizzata alla ricettazione. Il servizio. Associazione a delinquere finalizzata alla ricettazione. In dieci sono finiti agli arresti domiciliari di cui tre stranieri residenti, addirittura in Borchina Faso, avevano rubato e trafugato oltre 1300 batterie in uso alle stazioni di telefonia mobile, spedendole in Africa per un valore di circa 3 milioni di euro. A incastrarli un GPS piazzato su uno degli accumulatori. Il GIP, su richiesta della Procura della Repubblica del Tribunale di Salerno, ha emesso questa mattina un'ordinanza di custodia domiciliare per i dieci indagati. Un'operazione congiunta della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, durata un anno e mezzo, ha permesso di svelare un traffico articolato internazionale di batterie che venivano veicolate nel mercato africano. Un fenomeno criminale inizialmente sottovalutato, che stava registrando una rapida impennata su tutto lo stivale, a tal punto da finire nella lente di ingrandimento dell'Osservatorio Nazionale. I mille accumulatori trafugati avrebbero potuto creare situazioni di pericolo su scala nazionale. Salerno viene coinvolta nell'operazione in quanto base di partenza dell'area furtiva, nascosta e stivata nei container, pronta a prendere il largo dal porto commerciale in direzione dei porti africani. Stamani sono stati svelati i dettagli dell'operazione negli uffici della Procura della Repubblica di Salerno dal comandante della Capitaneria di Porto, Giuseppe Minna. La cosa che più ci ha allertato è il fatto che effettivamente questi accumulatori, servendo la telefonia mobile, la mandavano in tilt e quindi sarebbe stato un problema di sicurezza del Paese. Quindi in queste zone appunto che correvano il rischio per giorni di non avere alcun servizio. Quindi parliamo di ospedali, parliamo di forze dell'ordine che potevano essere praticamente isolate e quindi c'era un problema serio a quello che è la sicurezza del Paese. Zone del Napoletano e del Casertano. Talerno parte soltanto il momento di indagine, accumulatori imbarcati con bollette certificate in maniera falsa e venivano imbarcate su questa nave che era lì. Come siamo venuti a saperlo? Perché la compagnia che gestisce, cioè la compagnia telefonica, aveva montato su uno di questi accumulatori un GPS, quindi che al momento dell'accertamento vedeva questo accumulatore ricoverato su di una nave all'interno del porto di Salerno e da lì è iniziato tutto questo tipo di attività. Però quello che mi piace, permettetemi come ho detto prima, di ringraziare l'imprescindibile supporto dei colleghi della Guardia di Finanza, soprattutto nella fase operativa dove si andava ad intervenire su territori un po' difficili. Perentorio il commento del procuratore Luigi Alberto Cannavale. Nell'osservatorio furti di rame è attenzionato come fenomeno degno di investigazione a livello nazionale il furto delle batterie dei ripetitori di telefonia, perché è indicato come situazione di pericolo per la sicurezza nazionale perché un blackout dei ripetitori in caso di calamità e qualcosa può creare grossi problemi di comunicazione. Quindi questa attività investigativa, che all'inizio se poteva sembrare banale, invece ricercando proprio, lo potete fare anche voi sul sito del Ministero dell'Interno, è indicato come situazione di investigazione necessaria. Le persone coinvolte nell'inchiesta sono sottoposte a misura 10 soggetti, ma risultano più indagate, risultano qualche indagato per cui hanno una posizione un po' più marginale, per cui non è stata richiesta a misura cautelare. Potrebbe esserci degli stracci? Non lo so, bisogna vedere adesso che cosa dicono gli indagati in sede di interrogatorio, possono rendere dichiarazioni che poi sicuramente approfondiremo. Al momento ulteriori sviluppi non sono prevedibili. Grazie. Alvia il progetto degli asili nido negli ospedali della Campania. Lo rende noto la giunta regionale con una nota. I dettagli nel prossimo servizio. La Regione Campania ha pubblicato sul bollettino ufficiale una manifestazione di interesse per finanziare progetti volti all'avvio alla gestione di asili nido aziendali, rivolti ai figli o familiari delle persone degenti ed ai dipendenti presenti nelle strutture ospedaliere della Regione. Ne dà notizia la giunta con una nota. La dotazione finanziaria disponibile per l'operazione, da selezionare con avviso, è pari a 150.000 euro l'anno per il triennio 2019-2021. Il decreto dirigenziale, inoltre, evidenzia come la dotazione sia destinata a finanziare un unico progetto gestionale. Realizzato ed avviato il servizio di nido aziendale presso l'ospedale Cardarelli, il progetto verrà esteso anche ad altre aziende ospedaliere della Campania. Si tratta di iniziative importanti che permetteranno a tante donne di poter conciliare meglio vita lavorativa e vita familiare, con attenzione anche agli utenti delle strutture sanitarie, che in questo modo avranno una struttura a cui poter affidare i bambini durante esami diagnostici o in occasione di visite a familiari d'agenti. I nidi aziendali e i servizi di assistenza sono destinate ai bambini di età compresa tra gli 0 e i 12 anni e permetteranno di aumentare il livello di occupazione femminile in Campania, ancora troppo basso rispetto alle altre regioni italiane. Si parte dalle aziende ospedaliere, ma a brevissimo, con un investimento totale di quasi 10 milioni di euro, sarà pubblicato anche un nuovo avviso volto a finanziare i nidi aziendali nelle imprese private, al fine di allargare il più possibile queste importanti opportunità per le donne della nostra regione. E andiamo a Sant'Arsenio. Buone notizie per l'ospedale Santissima Annunziata. Ad annunciarle il sindaco Donato Pica. Pare che tutto il progetto di rilancio del plesso ospedaliero sia in via di realizzazione. Vediamo i dettagli. Novità importanti per l'ospedale di Sant'Arsenio ad annunciarle il sindaco Donato Pica. Nasce un tavolo tecnico permanente di confronto tra ASL e Comune. Sono in arrivo altri 50 mila euro per l'innovativo reparto di prevenzione e cura delle forme gravi di ludopatia e alcolismo. Per quel che riguarda l'ospedale di comunità, oltre agli stanziamenti previsti nella strategia delle aree interne di oltre un milione di euro, arrivano ulteriori somme dall'ASL. Buone nuove quindi per il Santissima Annunziata. Nato spiega nel dettaglio il primo cittadino un tavolo tecnico permanente di confronto tra ASL e Comune per monitorare i programmi di intervento presso la struttura sanitaria e l'evolversi di tutti i passaggi tecnico-amministrativi delle attività previste nel piano ospedaliero regionale e nell'atto aziendale dell'ASL. Vi partecipano dall'ASL la direzione sanitaria, il dipartimento di psichiatria, quelli delle dipendenze di prevenzione e l'ufficio tecnico, poi il distretto sanitario di Sala Consilina, i servizi psichiatrici territoriali e il Comune di Sant'Arsenio. L'obiettivo è di pervenire ad un'accelerazione di tutte le procedure di intervento e rilancio avviate. Intanto l'ASL fa sapere Pica ha destinato un'ulteriore cifra di 50.000 euro per il completamento della struttura destinata alla prevenzione e alla cura delle devianze gravi da alcolismo e gioco d'azzardo, i cui lavori sono ancora in corso. Siamo alla stretta finale, conclude Pica, per l'assegnazione dell'appalto di oltre 500.000 euro relativo agli interventi strutturali nell'edificio. Infine, nell'ultimo incontro tra ASL e Comune, è stato fatto un ulteriore passo in avanti per la realizzazione dell'ospedale di comunità e unità complessa per le cure primarie. È stato stabilito che nell'esercizio finanziario 2020 dell'azienda sanitaria saranno inserite ulteriori somme che vanno ad aggiungersi a quelle già stanziate dalla strategia delle aree interne, superiore a un milione di euro. I tempi saranno brevi perché il Ministero dello Sviluppo Economico ha posto come limite temporale per l'utilizzo delle risorse settembre 2020. Tutto il progetto di rilancio del plesso di Sant'Arsenio, stando così le cose, è in via di realizzazione. Rimaniamo in tema sanità locale. Ad intervenire nei giorni scorsi sull'argomento è stato il presidente della comunità montana, Raffaele Accetta. Facendo il punto sulla strategia area interna Vallo di Diano si è soffermato proprio sulla sanità, che all'interno del progetto occupa uno spazio importante. Accetta fa riferimento anche alla recente proposta del sindaco di Sant'Arsenio Donato Pica di una integrazione funzionale mediante un'organizzazione interna per dipartimenti che veda insieme i tre presidi ospedalieri di Polla, Olivetro Citra ed Eboli. Ascoltiamolo. L'ospedale di Polla è un altro degli argomenti che a nostro avviso deve essere tenuto sotto grande attenzione perché se una struttura ospedaliera non riesce a garantire i servizi essenziali e come in questi giorni stiamo vedendo ci sono diverse criticità con degli appelli che gli stessi primari stanno lanciando, corriamo il rischio di vanificare quello sforzo che stiamo facendo in quest'area. Cioè se noi siamo stati individuati come un'area interna, pilota, perché dobbiamo dimostrare che in queste aree si può vivere bene migliorando alcuni servizi e facendo determinate attività che creano anche sviluppo, la prima cosa, la cosa più essenziale è che non venga depauperato insomma quella che è la struttura sanitaria. Quindi noi facciamo appello anche attraverso la strategia degli arei interne a chi deve naturalmente mantenere e migliorare la struttura sanitaria a che appunto non ci siano carenze ma che ci sia un miglioramento e quindi laddove è necessario indicare e nominare i medici bisogna farlo laddove è necessario anche fare delle convenzioni bisogna farlo purché ecco la struttura sanitaria funziona. E io credo che negli ultimi tempi grazie anche a questi appelli a questi ragionamenti che stiamo facendo qualcosa sta migliorando però dobbiamo continuare dobbiamo insistere lo dobbiamo fare tutti quanti insieme così come stiamo facendo. La proposta del sindaco di Sant'Arsenio era stata già fatta in conferenza dei sindaci e credo anche c'è un atto deliberativo. Credo che sia diciamo una proposta che viene fatta da una persona che ovviamente ha una certa competenza avendo diciamo affrontato in tanti anni anche come responsabile della conferenza dei sindaci dell'ASL questi temi e rendendosi conto che oggi nel panorama generale e regionale della sanità è ovvio che non si può pensare a un ospedale come il nostro quello di Polla che possa fare tutto. noi negli anni siamo stati abituati ad avere addirittura due strutture ospedaliere non era possibile una adesso è chiusa strutture ospedaliere che noi stiamo cercando di recuperare attraverso proprio la strategia delle aree interne perché lì andremo a insediare l'ospedale di comunità però l'altra struttura ospedaliere non potrà avere tutte le specialistiche ed è giusto che ci sia un collegamento anche con strutture ospedaliere limitrofe si parla di quella di Eboli e quella di Oliveto Citra quindi mi sembra una proposta ragionevole che rientra in uno quadro in uno scenario regionale della politica sanitaria ecco se questo è noi siamo credo anche capaci e disponibili a discutere e parlare di questo tipo di aggregazione purché appunto non ci sia un deterioramento e un peggioramento della nostra struttura sanitaria. Domani mattina alle ore 12.30 presenta Pertosa alla presenza del Presidente della Commissione Lavori Pubblici e Trasporti della Regione Campania Luca Cascone di funzionari regionali e delle amministrazioni comunali di Pertosa e Caggiano saranno consegnati lavori di sistemazione messa in sicurezza della strada intercomunale SS19 delle Calabrie centro abitato di Pertosa SS19 Ter che attraversa i comuni di Caggiano e Pertosa. Andiamo avanti. Questa mattina i bambini delle scuole primarie di Montesano sulla Marcellana sono stati protagonisti della campagna di sensibilizzazione per una sana alimentazione promossa dall'amministrazione comunale. La consigliera delegata Marzia Maniglia ha consegnato ai piccoli alunni una merendina speciale. L'amministrazione comunale di Montesano sulla Marcellana guidata dal sindaco Giuseppe Rinaldi ha da subito manifestato grande attenzione al tema dell'alimentazione in particolare tra i bambini una sensibilità che viene confermata aderendo alla giornata nazionale contro l'obesità promossa dall'Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica che visti dati allarmanti relativi ai casi di obesità e di persone affette da diabete in Italia ha dato vita all'Obesity Day fissando la data al 10 ottubre una giornata che sin dal 2001 viene dedicata alla diffusione di sani principi alimentari divulgando gli effetti che sovrappeso e obesità possono avere sulla salute delle persone. Il comune di Montesano da sempre attento al tema della sana alimentazione a tutela della salute non poteva quindi esimersi dall'adesione al progetto dell'Adi conoscendo i fattori scatenanti dell'obesità che possono essere genetici psicologici o ambientali vi è anche la certezza che tali fattori possono essere modificati attraverso cambiamento di abitudini e stile di vita. Ecco quindi che l'amministrazione comunale con il supporto dell'Istituto Comprensivo di Montesano e dell'Enteparco e con il patrocinio dell'Anci è scesa in campo con l'iniziativa Tutti insieme per una merenda sana tra i banchi. Questa mattina la consigliera delegata all'istruzione Marzia Maniglia è stata in tutti i plessi delle scuole primarie del territorio per consegnare ai piccoli alunni una merenda speciale a chilometro zero e con prodotti sani e di provenienza garantita. Ai piccoli è stato consegnato un simpatico panierino interiamente compostabile con all'interno la merenda composta da una ricottina omogeneizzata colorata e addolcita con marmellata una mela e due frullini con farina di farro ed un manuale con le dieci regole della sana alimentazione da portare a casa per diffondere il tema anche nelle famiglie. Un'iniziativa che si pone numerosi obiettivi e che si spera di poter ripetere anche in futuro. Si è cercato spiega Marzia Maniglia di garantire la territorialità e la tracciabilità del prodotto nel rispetto della sicurezza. L'educazione alimentare ad una sana merenda va solo resa sana bella e divertente consumata in compagnia come un gioco appunto tra i banchi. Un piccolo gesto che si spera possa essere utile per contribuire allo stato di benessere dei bambini. Il consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro mette in vendita due immobili di sua proprietà attraverso apposita gara che sarà aggiudicata presso la sede dell'ente. Si tratta di un locale al piano terra ubicato in via De Petrinis con una superficie di 45 metri quadri. Il criterio dell'offerta segreta è al rialzo sul prezzo a base d'asta fissato a 60 mila euro. Oltre al locale è in vendita anche un terreno ubicato in località San Rocco di Sala Consilina. Il criterio di aggiudicazione così come per il locale in via De Petrinis è segreto al rialzo con base d'asta fissata a 65 mila euro. Tutte le informazioni relative al bando tra cui anche modalità e termini per la presentazione delle offerte oltre all'avviso integrale del bando sono pubblicate sul sito ufficiale dell'ente consortile all'indirizzo www.bonificatanagro.it Andiamo avanti. I primi dati della nuova raccolta le aria danno grande crescita per il sud bene la campagna a livello globale un po' meno la provincia di Salerno. Vediamo i dettagli. Una produzione di poco superiore alle 330 mila tonnellate di olio a livello nazionale un dato che quasi raddoppia la produzione finale dello scorso anno e quanto emerge dall'indagine degli osservatori di mercato di C agricoltori italiani Italia Olivicola e Aifo il clima ha favorito lo sviluppo dell'olivo con il caldo estivo e la bassa umidità in particolare che hanno evitato gli attacchi della moscole aria la qualità dell'olio extravergine sarà assolutamente eccellente e dentro la metà di ottobre comincerà la raccolta una ripresa che parte soprattutto dalle regioni del sud un'ottima annata per la Puglia che da sola produrrà quasi il 60% dell'olio extravergine d'oliva nazionale seguita da Calabria e Sicilia stagione positiva anche per la Basilicata che quasi quadruplica la produzione dello scorso anno e del Molise in Campania invece se a livello globale si registra un incremento di raccolta pari al 52% nel Salernitano c'è poco da sorridere visto che complice un mese di maggio molto freddo la formazione delle infiorescenze è iniziata con grande ritardo soprattutto negli oliveti esposti a nord in chiaro scuro invece il bilancio delle regioni centrali ai dati soddisfacenti di Abruzzo e Marche si contrappongono i dati negativi di Lazio-Toscana Umbria ed Emilia-Romagna dovuti anche in questo caso alle basse temperature d'inizio primavera maglia nera della produzione italiana saranno tutte le regioni del nord che registreranno un calo evidente picco minimo in Liguria con un meno 43% picco massimo in Lombardia nel Veneto con un inesorabile meno 65% dopo il nostro Tg il consueto appuntamento settimanale con Angolo Cusati ospiti la professoressa Maria Carla Gallo docente presso il liceo scientifico Carlo Pisacane di Padula e Angela D'Alto assessore alla cultura e vice sindaco di Monde San Giacomo la scuola è aperta a tutti articolo 34 della nostra costituzione significa caratterizzare lo Stato sociale come Stato di cultura che esclude ogni discriminazione nell'accesso ai saperi e nel diritto all'istruzione ne deriva la necessità che lo Stato rimuova ogni ostacolo perché la scuola sia concretamente accessibile a tutti e l'istruzione sia generalizzata di scuola di diritto all'istruzione incentivi e stimoli allo studio si parlerà nella puntata di questa sera ed ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità a tra poco Bentornati in studio Sanza e il Monde Cervati itinerari turistici da inserire nell'offerta online del gruppo Expedia leader mondiale come agenzia di viaggi online una proposta di cui si parlerà giovedì prossimo presso il CEA di località Salemme insieme agli operatori del settore turistico Sanza itinerario turistico da inserire nella vasta offerta dedicata al Cilento del gruppo Expedia un progetto di cui si parlerà ampiamente approfondendo anche i punti relativi alla promozione del territorio in un incontro in programma giovedì prossimo 17 ottobre presso la sala delle conferenze del centro di educazione ambientale di località Salemme a Sanza pubblico e privato si incontrano si confrontano e danno vita ad un percorso condiviso per lo sviluppo dal punto di vista turistico del Monte Cervati riservando attenzione anche al borgo di Sanza posto ai piedi del monte facilmente raggiungibili attraverso la statale 517 variante Bussentina che collega la A2 del Mediterraneo con il Golfo di Policastro un itinerario che il gruppo Expedia rinomata agenzia di viaggio online leader a livello mondiale vuole inserire nella sua offerta dedicata al Cilento in cui nella descrizione dell'area e delle opportunità turistiche ha già inserito tra le bellezze da ammirare anche incantevoli paesini dal fascino rurale accogliente Sanza quindi potrebbe rientrare nell'offerta giovedì prossimo 17 ottobre a partire dalle ore 16 se ne parlerà ampiamente in un incontro dibattito a cui sono chiamati a partecipare gli operatori turistici del Golfo di Policastro e Vallo di Diano nel corso dell'incontro a cui prenderanno parte il sindaco Vittorio Esposito e il consigliere delegato al turismo Angelo Marotta sarà possibile eseguire dettagliate relazioni e valutare insieme le numerose opportunità offerte dall'inserimento del territorio in una importante rete turistica come può essere il gruppo Expedia e la caratteristica di vendita online delle proposte turistiche un progetto che consentirebbe anche la crescita e la promozione delle numerose attività turistiche alberghiere l'incontro di giovedì si pone come obiettivo quello di creare una rete di operatori turistici in maniera tale da individuare insieme strategie di sviluppo ed iniziative in grado di rendere in Monte Cervati e Sanza trattori turistico internazionali nuovi orari Trenitalia in vigore dal prossimo mese di dicembre sono state soppresse due treni frecciarossa tra Salerno e Roma la corsa delle 5 vendita Salerno e quella delle 17 e 28 da Roma si tratta di due treni utilizzati soprattutto da pendolari che si sentono fortemente penalizzati arriva da una di loro una lettera c'è rabbia delusione ma soprattutto tanta preoccupazione tra i pendolari salernitani per la soppressione del frecciarossa con partenza da Salerno delle 5 e 20 per molti lavoratori quel treno rappresenta l'unica possibilità di viaggiare e non trasferirsi nella capitale per lavorare siamo noi quelli del treno delle 5 e 20 quel convoglio che ogni mattina prima ancora delle luci dell'alba apre le porte a centinaia di lavoratori di sangue salernitano e partenopeo che approdano a Roma per svolgere il proprio lavoro inizia così la lettera che una pendolare salernitana Maria Rosa Di Giorgio ha postato sul suo profilo facebook a nome di quanti vogliono protestare contro la soppressione del treno ad alta velocità siamo i pendolari i pendolari che ogni giorno fanno la spola tra Roma e Salerno Napoli macinando centinaia di chilometri quelli che sono rimasti delusi hanno sbarrato gli occhi increduli davanti a questa scelta una scelta che viene definita nella lettera scellerata irrazionale incongrua e irrispettosa ai limiti della discriminazione nei giorni scorsi anche il presidente della commissione trasporti della regione campagna Luca Cascone ha assicurato il suo impegno ad evitare che sia attuata questa scelta medesimo impegno in sede nazionale governativa è stato assunto dal parlamentare salernitano Piero Di Luca Cara Trenitalia noi siamo il motore che traina i vostri convogli non una zavorra da scaricare al primo angolo scrivi ancora a nome dei pendolari salernitani Maria Rosa Di Giorgio i pendolari delle 5 e 20 di rispetto si nutrono e rispetto pretendono sabato 12 ottobre nuovo appuntamento con dialoghi di storia questa volta a Sassano nel museo del liquore penna organizzato con la collaborazione dell'associazione Factotum il tema scelto è l'epigrafia dei Longobardi del sud vediamo ritorna sabato 12 ottobre alle ore 18 l'appuntamento con dialoghi di storia la serie di incontri seminariali realizzati dalla fondazione Mida preseduta da Francisca Antonio Dorilia in collaborazione con la rete dei musei del Vallo di Diano i forum e le associazioni giovanili del territorio a coorganizzare il seminario di sabato prossimo è l'associazione culturale Factotum preseduta da Antonella Inglese questa volta il tema scelto è l'epigrafia dei Longobardi del sud a relazionare la professoressa Chiara Lambert dell'Università degli Studi di Salerno l'incontro sarà al museo del liquore penna Sassano un luogo ricco di tradizione allocato nella fabbrica in cui si produce il liquore il museo ne racconta la storia e le proprietà Dialoghi di Storia è un ciclo di tavole rotonde patrocinate dall'assessorato al turismo della regione Campania sul monachesimo italo-greco curato dalla professoressa Rosanna Laggio dell'Università degli Studi del Molise in collaborazione con vari altri studiosi partendo dalla convinzione che la storia costituisca la forma di conoscenza in cui si può sviluppare meglio la piena libertà della memoria gli incontri spiegano gli organizzatori hanno l'obiettivo di stimolare un confronto sulla promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale del Vallo di Diano salvaguardandone la memoria collettiva per questo motivo si tengono in alcuni musei aderenti alla rete luoghi della memoria per antonomasia ed espressione del territorio in cui si trovano protagonisti attivi dell'iniziativa concludono sono i giovani eredi del patrimonio del passato e artefici di un futuro auspicabilmente più consapevole e con questo servizio è tutto io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata a a e vi ringrazio